Buonasera E' una cosa buona? Buonissima Aspetti, che credo che per lei ci siano già stati degli insulti Salutiamo l'ambasciata giapponese, cinese, coreano, cinese, giapponese I ristoranti, il maestro Nigro, tutti E in italiano? Mi sono presentata, vengo da Sernia, sono giapponese Italo-albanese Mi fa piacere stare a carcere Ho salutato la dottoressa e ho chiesto che vorrei un bel po' di immigrati E' no, lei proprio non è il proprio della lingua Non è il proprio della lingua Mannaggia La salutiamola, va Com'è buona? Aspetta, com'è buona Sernia? Con bawa Bene, con bawa Bene, grazie, si può andare meglio Uno, due, tre Bene, a dopo Aroppo, 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 aroppo in giapponese Aroppo, aroppo Andiamo! Dal giappone, con amore, non con amore Chiamo il 13 la Puglia No Chiamo il 10 la Campania Nove, la Calabria La Puglia San, Francesco, dai Schitella, tu lo parli giapponese, Francesco? Quasi E rimissero stella ai tuoi sogni Allora, l'uomo di Schitella La chiamata non è tanto bella